25. Maestra di vita Che cos'è la storia per noi? Commento La storia per i posteri è un'illusione perché è l'umanità che ha vissuto la storia, che l'ha creata con le sue necessità evolutive. Perciò la storia non sarà mai maestra di vita per i posteri che creano altre realtà perché hanno diverse e più avanzate necessità evolutive. Dunque i posteri possono concepire la storia solo con la mente, cioè illusoriamente.